mi raccomando signore lasciatevi toccare la mamma Frank a noi piace farlo da soli I Nandi e il papà Sola Sola e Cipirao Porta E su Le raccomando signore lasciatevi toccare la mamma Frank Questa è il primo è il primo, il primo è il primo! Il Vaticano Paparazzi, poverino Quella che ha fatto, ha fatto Faceva anche le pizze lì per chi una volta Non lo sono, Kainer Armand Adesso inizierà l'attimo solenne Mi raccomando un po' di serietà dal pubblico Chi volesse per notarsi per il giubileo Iscriviti al canale Aspettato ecco adesso provo ma che succede l'autososità ha sbagliato la parte forse lo so e in Eurovisione cosa vuol dire il nostro Santità Frey? il nostro paparazzi viene accompagnato al suo organo non è il primo organo fratelli e sorelle è davvero un grande errore scambiare la porta di un convento di suore per quella di una pieve in questo anno santo della misericordia però tutto deve essere perdonato queste povere suore facciamo passare loro questo brutto momento no? a un certo punto il vino viene a mancare e la festa è rovinata immaginate una festa senza vino tutti accompagnati dalla maestra Mariella aveva paura di essere scomunicata aiutateli come pubblico battete le mani per cortesia aiutateli pensionati pensionato vamo Frank grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti